La montagna veronese ha bisogno di continua stimolazione per esercitare quella cooperazione di cui ha bisogno per fare il salto di qualità. A un anno dal cambio di sede, ora presso il comune di Soave, a sei mesi dall'insediamento del nuovo CDA, il GAL Baldo Lessinia, una sessantina di soci tra comuni, associazioni e consorsi, si è ritrovato per l'assemblea di approvazione di bilancio, la sintesi dei lavori svolti e l'analisi dei progetti futuri. Ci sono imminenti dei bandi soprattutto per le imprese extraagricole, B&B, nel settore del turismo, nel settore dell'artigianato, ma anche delle iniziative comunque a salvaguardia del patrimonio storico e culturale del nostro territorio. Diciamo montagna veronese, ma è una montagna che ha più anime. Assolutamente sì, è una montagna che va praticamente dal lago di Garda, quindi col compressorio del Baldo e l'Alessinia, fino ai confini di Vicenza. È una montagna molto ampia, fatta di tanti attori, di tante energie che stanno anche muovendosi, diciamo. Che si stanno muovendo ma che si sentono sempre un pochino dietro le quinte, perché c'è questa sensazione smentita poi dagli eventi. È una cosa storica, è una cosa storica, diciamo, perché la montagna si è sempre sentita marginale, di periferia, e quindi ha vissuto, diciamo, i grossi centri urbani. Invece io credo che la montagna sia una risorsa aggiuntiva sia per il sistema del lago di Garda, sia per il sistema della città di Verona. Ci sono stati vari soggetti che hanno investito nella zona più di montagna e montana di entrambi i compressori, con delle attività che quindi hanno contribuito a diversificare quella che è l'offerta dei sistemi, degli agglomerati maggiori. Per quanto riguarda l'offerta turistica? Per l'offerta turistica proprio in questi mesi stanno uscendo tutta una serie di opportunità di finanziamento, che è la misura 642, che sicuramente aiuterà a creare e a valorizzare delle sinergie. È un territorio bellissimo il nostro, sia il Baldo per le proprie peculiarità e sia la Resinia. È un territorio che sicuramente non si presta al turismo di massa, ma può prestarsi a un turismo slow, sostenibile, quindi di nicchia, un turismo diciamo esperienziale. Prossimo punto sul turismo quindi, quando lo facciamo, che appuntamento ci diamo in agenda? Beh, sicuramente una cosa grossa che abbiamo in cantiere, ma è già in stato avanzato, sarà promuovere per esempio l'Est veronese con la veccia via della Lana, che è in fase di ultimazione, e dove probabilmente in occasione o di Fiera Cavalli o del Vinitali, vediamo adesso come impostare tutta questa operazione, sarà un'opportunità per lanciare un percorso di circa 50 chilometri, che è in fase di realizzazione, coinvolgendo il cicloturismo, le povie, quindi più soggetti che vanno a valorizzare quello che è il paesaggio di questa zona.